Anche alla luce dei risultati, eccetto quello lì del Procida, è stata una buona gara, un buon risultato che ci fa ancora sperare per una salvezza che potrebbe essere anche senza i play-out. Cosa molto difficile, perché i risultati incrociati con le altre concorrenti sono avvantaggiati nei loro scontri, mentre noi abbiamo una partita con una squadra molto ben attrezzata, che è Virtus Vol, l'ultima giornata di campionato, che ancora può sperare in un eventuale aggancio dei play-off. Per cui sarà molto difficile per noi, però la matematica ancora non ci dà la certezza dei play-out per raggiungere la salvezza, ci dice che ancora possiamo sperare. Quindi sta a noi disputare quest'ultima gara con una massima concentrazione, una massima applicazione e cercare di vincere. Poi attenderemo gli altri risultati e si vedrà. Sicuramente i segnali sono incoraggianti? Sì, la squadra ha reagito molto bene, ha capito l'importanza della gara, del momento, della situazione. Magari se l'avessero fatto un po' prima, ora staremo a parlare di altre cose. Però va bene così, il calcio è un sistema complesso, succede di tutto. In un minuto si può stravolgere una partita, figuriamoci un campionato.